Eccolo là il 93, il mio vecchio autobus. Quanti anni sono passati da quella mattina? Allora non avevo la Maserati, ma ero pieno di entusiasmo. Mi avevano convocato qui per darmi la tanto sospirata convenzione di medico della mutua. Non si fa che bere cappuccini qui, eh? Sì, dottor. E quando lavora? Vai, dottor. Ciao, caro. Annuncia il dottor Vianello. Buongiorno, il dottor Vianello non c'è più, c'è il dottor Lampredi. No. Buongiorno. Hai detto il dottor Lampredi. Lo conosce? Eh, lo conosco sì. Ho sentito parlare molto della tua clinica. Anzi, mi ripromettevo uno di questi giorni di venirla a visitare. Ah, vieni, vieni. Mi fa molto piacere. So che hai preso con te il vecchio De Amati. Sì, vecchio, ma sempre efficiente. E anche Drufo, Sandolini, Misticò, Zucconi. Sì, ho voluto riunire intorno a me tutti i vecchi amici. Ci sono anche i giovani, giovani di grande valore. Guarda, Villa Celeste, io te lo dico senza falsa modestia, è una delle più moderne e meglio attrezzate. È una delle più care. Ah. Soprattutto per la nostra mutua. Sì? Caro Tersilli, sarò franco. Ho qui una relazione sulle notule mensili presentate dall'amministrazione della tua clinica. Ci sono cose che ci sorprendono e ci preoccupano. Bene. Per esempio, a Villa Celeste, il 72% dei bambini nascono con parto cesareo. Non c'è appendicite che non sia complicata da peritonite. Tutte le ernie sono strozzate. Perfino le riniti sono curate chirurgicamente per non parlare poi delle radiografie, stratigrafie e trasfusioni e applicazioni di rena artificiale. Nella tua clinica i più moderni antibiotici e i più costosi vengono usati come l'aspirina. Ma che dici? Tutti i medicinali hanno il talloncino giustificativo. In una clinica dove ci sono anche dei paganti è facile procurarsi i talloncini dei vari medicinali. L'ossigeno. Con l'ossigeno consumato nella tua clinica si potrebbe gonfiare un dirigibile, caro Guido. I dirigibili non si usano più. E poi si gonfiavano con l'idrogeno, non con l'ossigeno. Tersilli, io ti sto parlando da amico. E anche io ti parlo da amico. Lampredi, con quello che mi dà la tua mutua io non ci pago neanche il cambio delle lezzuola. Perché le altre mutue? E sono più migragnose della tua. Oh, voi pagate 5.000 lire per un patereccio e 5.000 lire per un appendicite e mi date un massimale di 12.000 lire per qualunque intervento di alta chirurgia. Se io pensassi ai miei interessi accetterei solo paterecci, no? Ma i paterecci non sono mica tanti. E allora che devo fare? Mi arancio. Come? Prima di tutto cercando di convincere il mutuato a prendere una camera singola facendogli pagare intanto la differenza fra quello che passa la mutua e la retta. Che è di quanto? Di quanto? In prima classe 28.000 lire. Cospita! Che vuoi dire, scusa? È molto. Io a Villa Celeste c'ho 11 medici, 26 infermieri, 18 fra portantino e portantino, 12 monache, 6 persone in cucina, 4 in lavanderia, 3 uomini di fatica, 2 autisti e 2 giardinieri. Villa Celeste è costata un miliardo. Lascio fare quello che dicono certi giornali che io il terreno l'ho avuto dalle piccole ancelle dell'amore misericordioso. 8.000 lire al metro me l'hanno fatto pagare quelle figlie di Maria. Io a Villa Celeste ci ho fatto i capelli bianchi. Beh, ma allora ti tingi. Scherza tu. Non lo capisci che siete voi mutui che ci ho obbligato a fregarvi. Stabilite dei massimali differenziati, dei massimali onesti e vedrete che ci saranno meno cesarei, gli appendiciti saranno appendiciti e le riniti riniti senza complicazioni. Persilli, non dipende da me. Io sono un semplice funzionario con mansioni di controllo. Ma che cosa credi che sia divertente per me dover fare i conti in tasca ad un amico come sei tu, ad un collega, per quello che mi pagano, poi tu mi dirai e chi te l'ha fatto fare? Potevi continuare a fare il medico. Io non c'ero tagliato, ho sbagliato professione. E ho famiglia, Tersilli. Ho famiglia. Vedi, io ti parlo a cuore aperto. Ho capito, Manpre. Anch'io ti parlo a cuore aperto. Vedi, a Vianello che occupava la tua poltrona prima di te, io gli davo il 3%. A te che sei un amico dito... Il 10, l'8, il 5. Il 10, l'8, il 10, l'8, il 10, l'8, il 5. Vki, io ti parlo a cuore aperto. Vieni, io ti parlo a cuore aperto. Tutti presenti? Tutti Tutti, proprio tutti Bene Buongiorno, Sor Pasqualina Buongiorno, Sor Beatrice Non so com'è, ma arrivo sempre in ritardo Me ne sono accorta Bisogna essere indulgenti, Sor Beatrice, è così giovane Già, è così poco vestita Buongiorno, sorella Buongiorno, 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 buongiorno Buongiorno, professore Buongiorno, 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 sorella Sor Pasqualina, comandiamo Buongiorno, professore Medici e personale sono tutti presenti, la clinica è quasi al completo Sono liberi soltanto la 31 e la 44 e un lettino nella terza corsia Bisognerà dimettere qualcuno? Ci penseremo noi, sorella Grazie, Sor Pasqualina Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei Buongiorno a tutti, come andiamo? Come vanno i suoi occhi? Male, non ci vedo Occhio non vede, cuore non duole Ma di consolata Mica, sorella? Notte abbastanza tranquille Sì Stamani due empals e uno ina Ma mi scusi, non ho ancora aggiornato il tabellone E notate due urgenti, una commerciante e una imp Che cos'è? Istituto Nazionale Previdenza dei giornalisti K? Bene, buona mutua I giornalisti sanno farsi rispettare Giorno, suor Colina, girato? Sì, professore Bene Buongiorno Ciao, diamati Scusami, ma stavo dando disposizioni per gli interventi di questa mattina Ma ti pare? Sua Beatrice ti avrà informato dei nuovi arrivati Quello dell'Egna strazzata è il caso più urgente Bisognerà operarlo a fine mattina Prima è, meglio è Allora, vogliamo andare a vedere questi nuovi arrivati? Andiamo Vediamo chi possiamo ricoverare, chi possiamo dimettere Io ho già preparato una lista, se vuole vederla Bene Il professor Diamatis l'ha vista? No, ma va bene, ugualmente Prendi Vogliamo andare? Signore, vi amo Vi ringrazio di avermi creato e fatto cristiano Propongo di fucire alle occasioni Signore, mi se ricordi e perdonatemi Eccoli, buongiorno miei cari Complimenti per le vostre candide uniformi Caro Trufo, vuol mettersi al passo con gli altri? Niente da fare, caro Terselli No? Dottoressa Olivieri, la nostra meravigliosa dietista Allora, vogliamo aiutare il nostro Trufo? O fa una dieta dimagrante o glia cambiamo la giacca, no? Andiamo, miei cari Abbiamo un lavoro pesante stamattina Grazie Venite, cari Venite, venite Venite, venite Venite, venite, venite Venite, venite Eccola la cura dimagrante Fatta a piedi, Trufo E poi dice che uno Ma bravi, bravissimi Bene, benissimo Una scelta davvero indovinata Cinque ricoverati, uno peggio dell'altro Sentite Un inam Con stenosi mitralica Un empals Ulcera gastrica con ematemesi Un impci Con cirosi epatica in fase terminale E per fortuna, guarda caso Il nostro Trufo ci ricovera un commerciante con ernia inguidale Grazie a Dio Sembra che lo facciate apposta Ma che lo fate apposta? Perché l'unica cosa che funziona Qui sono le diede Grazie alla nostra dottoressa Ulire Ma che tanto è carina E fate, commentate Le assicuro, professore Che quella stenosi mitralica È assolutamente operabile E chi se ne frega Quando sai che l'inam Per questa operazione Non ci rimborsa neanche l'ossigeno E l'empals con l'uncera gastrica Di chi è? Di mistico Di mistico Di mistico Ah, bravo mistico Così oltre al ricovero Tu gli fai le analisi, sondaggi, le ricerche, vero? Sì, bro E chi le paga? Le paghi tu? Quando sai che la mutua A me non mi rimborsa neanche il canale di regolizia Le cuirizie Oh, sorbiatrice E l'impice Con la cirosi epatica Di chi è? Tua? Di chi è? Di Sandolini Ah, bravo Sandolini Sei un genio Sandolini, grazie E chi mi paga le lastre Le paracentesi Gli svuotamenti Le analisi? Perché l'impice non paga Qui l'unico che guadagna è Don Vittorio Per il funeral Io credevo, professore No, che credevi? Ho mettito il po' bene in testa Io in questa clinica voglio battesimi, non funerali Allora cosa dobbiamo fare? E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di mandarli via, no? Federico, ma è ormai E che ormai? Ma è possibile che vi deve insegnare tutto io? Volete venire, miei cari? Andiamo Buongiorno Buongiorno Ragione Artucci Febbre? 39 Via la coscetta di pollo Facciamo la peletta oggi Vero ragioniere? Buongiorno, professore Buongiorno Come andiamo, signora Paoloni? Male Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo Buongiorno No, non si alzi Stia comoda Chiude la porta però Che culone bianco che ha Ci sei, drufo? Due appendiciti Drucconi Ernia strozzata Pandolini Rosi apatica Druco Di verticoli Tietoli Solito digiuno Deamato Tutto bene Buongiorno, signori Eccolo È lui che soffre di ulcera gastrica? No, è l'altro, professore È molto che lei soffre di ulcera gastrica? Saranno almeno sei anni Sì Recentemente ho avuto delle moragie Sì Il dottor Teroni Ha fatto le analisi Sì E mi ha convinto Di tornarsene a casa No, professore Di farmi operare E va bene Il signore ha chiesto una camera a pagamento E perché non vede dire subito le cose? Il dottor Teroni ha ragione Lei saggiamente segue i consigli del suo medico Ma lo sa che c'è uno scattino Fra quello che mi dà la mutua e la retta? Sì, lo so Ma pazienza Pagherò la differenza Quando si sta male Non bisogna badare l'economia Complimenti È così che deve parlare un paziente Bravo, signore e signore Grisenti Addio Grisenti Fai lasciare un deposito Salute, professor A noi Ma chi è? Un nevrotico, un nostalgico E legati al braccio, no? Ho sempre portato il cinto Ma siccome Mi vergogno un po' a dirlo Alla mia età Ho deciso di sposarmi E allora lei mi capisce La capisco benissimo E mi congratulo con lei, giovanotto Per la decisione presa Il professor De Amatis La opererà oggi stesso Vedrà È una cosa da niente Lei fra una settimana Si sentirà con un ragazzo Non c'è niente da fare La gente vuole sposarsi Bosello Vittorio Stenosi mitralica Episodi di reumatismo articolare Affanno intenso Edema Agli arti inferiori Recentemente un grande attacco Di dispnea Va bene, basta Che mestiere fa lei, signor Bosello? Lavoravo a lei Nella centrale da prima porta Ah, allora è lei Che ogni tanto ci lascia senza luce, eh? Qualche volta Quando c'è il sovraccarico Signor Bosello Noi la ringraziamo molto E così ringraziamo Il suo medico personale Il dottor Diodato Che ha preferito la nostra clinica E così lei Il dottor Cremona Che ha voluto ricoverarlo Ma in coscienza devo dirle, signor Bosello Guardi, io parlo contro i miei interessi Lei non può restare in questa clinica Deve andare in un grande ospedale Dove... Dove è morto più o morto meno Non dà fastidio Perché dice questo? Lasci perdere, va Ho capito Faccio venire, mi muoia Mi faccio portavvia Sentito? Continuate a ricoverare Senza ponderare le conseguenze Carattere forte E' orgoglioso il nostro elettrico Andiamo, signori Su Vogliamo vedere questo pancione, signora Aristide? Ecco, signori Un bellissimo addome batraciano Versamento liquido libero Respiri profondamente Fegata non palpabile Sindrome da probabile cirosi epatica Forse non è da escludere un'epatite virale, signori Le amati? Forse Lei è la moglie? No, sono la sorella Suo fratello beve? E non lo vede? Eh, sì, lo vedo Io domando Lei risponde, signora Sono almeno 40 anni che beve Sì È stato in clinica Non so quante volte per disintossicarsi Ma poi ricomincia È molto grave Eh, non si può dire così su due piedi Bisognerebbe fare una paracentesi Fare delle analisi Riempirlo, svuotarlo Signora, vuole un consiglio? Io le parlo contro il mio interesse Lo porti subito via da questa clinica Lo porti in un grande ospedale Dove ci sono dei medici specializzati Delle attrezzature adeguate Per questo tipo di male Ripeto, parlo contro il mio interesse Signori Giusto, professore Lo sento e la ringrazio È così difficile oggigiorno Trovare dei medici onesti come lei Grazie, signora Come va, signor Klinger? Chi è? Siamo gli uomini bianchi cattivi Che, non riconosci? C'è gravato stannolto Andiamo via Onorevole Sta dormendo, professore Onorevole sì, ma lei? Ecco, c'è quello che posso Sorveatrice? Anche questa Sì Chiudiamo È incazzoso Professore Oh, scusi, Sorveatrice Miei cari collaboratori Ancora una volta Devo ricordare Allor signori Che Villa Celeste Dell'amore misericordioso Non è un istituto di beneficenza Ma una clinica privata Ma una clinica privata gestita con soldi miei Grazie al vostro acume E alla vostra perspicacia In una sola mattinata In una sola mattinata ci siamo rimediati Una querela Tre maledizioni E un baffo Contenti? Se non hai altro da dire Possiamo cominciare gli interventi Sì Ancora una cosa Vi ricordo che giovedì prossimo La TV trasmetterà l'atteso servizio Sulla nostra clinica Vogliamo vederlo a casa mia? Io e mia moglie saremo molto lieti Se volete intervenire con le vostre gentili signore Ci sarà anche una cenetta in piedi Grazie Grazie Allora Mi vuoi fare che diventa domani Trufo Ah Sento battiti a 160 140 135 120 Che è la prima cavitanza? Prima Rola Prima Rola? Qui dentro c'è una famiglia tu? Natoli? Legga Dal quinto mese in poi Le è stata rilevata i peralbuminuri A aumento della ziotemia Malgrado la dieta ipocalorica Ha azotemia oltre a 0,60 Insomma è un tipico caso di gestosi gravidi Ti ho tanta paura dottore No e che paura La paura è tutta mia Tra poco per te è tutto finito Riposa E stai allegra Grazie Ah Stai la mano Dottoressa Latoli Lei non è venuta alla riunione stamattina vero? No Perciò non ha sentito quello che ho detto ai suoi colleghi No professore Avevo una rottura delle acque Ecco è proprio le rotture che dovete evitarmi Voi siete miei collaboratori E dovete fare gli interessi della clinica Non delle mutue Oila E questo è un amore come grosso Non mangia troppo latte sorella Oh si è tanto goloso Non lo vizi però eh Di tante donne incinte che ci sono A lei mi ricoverano una prima rola di quel genere Una prima rola? E così dicono a Roma Scusi professore che dovevo fare? Ebbene non guardi solo le cartelle cliniche Vi ho un'occhiata anche alla pancia Non l'ha visto? Quella se ci va bene ce ne sforna cinque La mutua me ne rimborsa mezzo Scusi Chi c'è qui all'intipatrice? Natoli E questo che fa? Sempre qui sta? E' aumentato di un etto poverino E se aumenta di un etto al mese ce lo teniamo un anno Scusi professore che dobbiamo fare? Lo dobbiamo buttare? No Che vuoi che ti dico bravo? A me? Mariotti andiamo molto male Malissimo Troppe lastre Troppe dici? Sì Ma ti rendi conto che nel giro di tre giorni Avete fatto per ben tre volte la colocistografia Per un totale di 24 lastre Oh amico Tre volte ce l'ho dovuto fare Il dottor Cremona voleva che gliele rimbaccessi Che ti pare? Cremona Cremona ha ragione Tu lo sottovaldo Col materiale che tu mi fornisci Lastre praticamente scadute Come scadute? Sì signore Sì signore Scadute Leggi qua Queste lastre sono scadute da c'è mese Sì ora mi vorrei dire che le hai pagate un terzo No io non ti dico niente Sei tu che mi accusi di fare delle economie Sì signore Sì signore Ti dico che d'ora in avanti Non intendo più fare esami radiologici con questo materiale Ma non ti incazzare Mariotti che ti fa male al figlio Prego Ce lo dibronzo io Come la faccia tua Eh povero Mariotti È proprio invecchiato eh Come le lastre Chiuso per ferie E chi è che fa lo spiritoso? Però ho delle indagini Però la francamente sono quasi tre mesi Che era in artificiale Non funziona Lo sa quanto costa un filtro di rena artificiale? Diciannove vi da dire Non c'è mutua che paghi Certo L'ho sempre detto Il rena artificiale è soltanto per i paganti Certo Se no resti chiuso Tanto per questo serve E allora dottor Guberti Mi consoli almeno lei Tutto bene qui vero? Professore Io faccio miracoli Anche lei eh Perché anch'io? E non lo so Una clinica che costa miliardi Va avanti a forza di miracoli Non c'è da sbelligarsi dalle risa? Quali sono i suoi miracoli? Beh da una settimana manca l'apparecchio per l'elettroforese Manca il reagente per le transaminasi Il reagente Meyer per la glicemia Non dà più risposte esatte No eh Manca la calce sodata per l'apparecchio del metabolismo basale Con le conseguenze che lei può immaginare professore Insomma professore Mancano le cose essenziali Guardi Tutto lavoro a retrato Guardi Guardi E guardo guardo Ecco E queste che sono? Ah beh questa è birra Birra? Sa al bar è sempre caldo e costa il doppio Vuole favorire? Vuole favorire sor Beatrice Chiuda Ah e che porcheria è? E' roba da manca Beh insomma professore Io sono il capro espiatorio Non riesco a far fronte alle richieste dei vari reparti I medici protestano perché non sono assolutamente in grado di Perché? Perché? Perché glielo lo dico io? Perché non sono i beni medici? A parte il fatto caro Guberti Che lei usufrisce di un gabinetto analisi dei più importanti di Roma Con uno spiegamento di mezzi Guardi qua Ma che vuole? E poi un bravo medico non ha bisogno di tante analisi Per fare una diagnosi o per stabilire una terapia Ma come dice il grande professore Azzarini L'occhio clinico non è quello del medico Ma è quello del paziente Che è molto più rivelatore di qualunque altro mezzo di indagine Non dice così? Sì professore Ma il professore Azzarini è il professore Azzarini Sì E poi sarà anche vero che non fa fare tante analisi Tanti elettrocardiogrammi Tante radiografie Ma i suoi pazienti li le mette in conto lo stesso Salugne Lo domandi a mio cognato Oh Guberti Il professore Azzarini è amico della clinica È mio personale Le proibisco di fare allusioni A lei quelle bottiglie lì dal frigorifero La birra se la vado a bere al bar Che qui fa schifo fa E che? Embriaco Ha perduto la mamma Bisogna mandarlo via No è scomporto C'ha l'occhio da matto Anche qui si fanno miracoli Il miracolo della stradizione Che è sparito suor Teresa Peane, clemere e pinze Ecco le pinze Ma dove sono andate a finire tutte le pinze che non ci sono più? Professore si perdono Ma dove? Nello stomaco dei pazienti? Certe volte si buttano via insieme alle garze e alle... Perché suor Beatrice? Perché non c'è nessuno che controlla Gli aghi poi eh suor Teresa Professore adoperandoli si spuntano Li adoperano male Li innestano male Chi c'è qui? Un'erria professore Hai lo sposino eh? Sì Ma che fanno lì? Quelle ansate lunghe Ma chi è che cuce? Quelle ansate lunghe Consumate chilometri di filo Il dottor Cremona le vuole sempre molto lunghe Ah sì? Dottor Cremona non va da spese eh? Dottor Cremona? Sono io Lei per un fegato mi ha fatto dodici lastre Era un caso particolarmente difficile professore Eh? Mi scusi ma adesso non ho tempo per rispondere No? Faccia, faccia pure Un caso difficile Era un mutuato dell'Inam Cosa paga l'Inam? 10.000 87.000 lire di lastre Chi c'è qui? Ehi Giovanotti Signori E che fate? Qui si fuma, si beve, si telefona Ma chi so qui? Gli assistenti del professor Caviglia Gli assistenti di Caviglia Sono i giovani Non vadano a spese loro eh? Dottorini Belli Un chirurgo coscienzioso Resto in sala operatoria Per rimanere sterile Voi che fate? Per tre interventi mi consumate 18 camici Non sapete che un cestello sterile costa 8 lire? 12 lire Ah je, no 8 Professore, la sterilizzazione costa, l'autoclave consuma E l'autoclave? Le soline possono spegnere La tengono sempre accesa Com'altra revisione No Corbeatrice, controlli lei i ricoveri Loro non devono prendere iniziative Io mi fido solo di lei Grazie professore Tutto quello che fa lei è ben fatto Tutto dico E quella? L'ha dimesso la signora Parisi? Sono dieci giorni che è qui professore E che vuol dire? Occupava una camera singola Senza pagare la differenza E lei era dimessa? Senza dirmi niente Lei ha detto faccia lei Quel che fa lei è ben fatto L'ho detto io? Sì professore Signora Parisi Ma cosa ci fa sentire questa signora Parisi? Questa cattiva signora Parisi Ma che facci lascia? Mi avete sentito male professore Non sono io la cattiva che vi lascio No Ma siete voi che mi mandate via Ehm Ma questo non era il corrente Sono stata io a dimettervi Le radiografie e le ricerche di laboratorio Non hanno riscontrato niente di patologico No Sì se piuttosto che mi mandate via Perché non pagavo la differenza Fra quello che passa la multua e E e e che e che Signora Parisi non lo deve neanche pensare questo lo sa? Se non lo deve pensare Allora io non lo penso Io questo dolore però Ce l'ho sempre Signora Parisi Lei è fiducia in me? Voi sì dottor E allora sentiamo Questo dolore Questo dolorone Che affligge la signora Parisi Su Mamma Fa male qui? Fa male? Fa male Lei adesso se ne ritorna a casa Serena e tranquilla E seguirà la dieta Della dottoressa Olivier E mamma le fa Sa che la signora Parisi è stata la mia prima mutua? Ah sì? Non lo sapevo Non si può dire che non mi abbia portato a fortuna Se ne va del buon nome della nostra clinica Quando poi abbiamo una situazione così confortata Sì professore E questa chi è? Ah volevo presentate il suo Marie Claire Prima di accettare un mutuato Mai un minuto di evasione Le mi concede Sua Beatrice Lo volete sapere Che cosa me ne faccio io Delle vostre posate? No Non voglio sapere E io invece ve lo dico lo stesso Io delle vostre posate Me ne faccio No 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 Signora Parisi No 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 Venga a dirla a me in onore Avanti Ma cosa è successo? Lo voglio dire a lei Ma che è successo? Cosa ha fatto? Mi hanno accusata Di essermi appropriata Di un cucciolo e una forchetta E' stata suor Virginia a dirmi Che mancavano queste due posate Dalla salsa 43 Va bene garantisco io Per la signora Parisi Eh no professore no Per Antonietta Parisi Rispondo io No 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 Robis Non impazzisca Non c'è bisogno Robis state qua Non c'è bisogno La prego Perché garantisce No La prego Perché garantisce Perché garantisce No Ma se non trovi le posate Venga Io ti ti dico No no Signora Parisi No 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 Lo faccia per me Lo faccia per me Allora scusi tanto Si sono ritrovate poi le posate Erano nella cesta Della bianchieria E come vi siete permesso Senza essere sicure Ci penso io professore Si ci pensi lei Venga signora Parisi Prego signora Parisi Ecco Venga signora Parisi Lasciatemelo dire Abbiamo una barriera completa Tiposata da gente Indistitamente per mutuati E pagare Auguri signora Arrivederci dottor Mi raccomando Non dubiti signora Parisi Scorsatevi che senza di voi Non posso vivere Sor Beatrice Quando ci sono delle stanze libere Una è per la signora Parisi Lei è più di una mutuata È la nostra mascotta Se lo dice lei Si lo dico io Quasi ora di colazione Dobbiamo ancora visitare le cucine Sor Pasqualina Se si libera una stanza Mi avverta Si professore Avverta a me Va bene Si anche lei ha ragione Sor Beatrice Ma c'è il pro e il contro Si ricordi? Si Poi là Che vuol fare Sor Beatrice Nell'esercizio delle sue funzioni Come va? Che fai tu sguattro Fumi in cucina È il protetto di Monsignor Ruggeri Ma no Come ti trovi qui da noi? Ricordami a Monsignor Ruggeri Esatto Dottoressa Olivieri Come va? Scusi Non l'avevo sentito arrivare No? Sempre presa dalle sue tabelline di edediche Vogliamo vedere? Diede con proteine Po caloriche Con carboidrati E qui che c'è? Eccole Coscetta di pollo Coscetta di pollo Quante coscette Queste coscette Sono dieci giorni che vanno e vengono dal frigorifero Bisogna cambiarle I pazienti si rifiutano di mangiarle Meglio Anzi Potremmo farle fare di plastica, no? Professore Si Deve dirle Ah si Dottoressa Olivieri Lei non la mangia la coscetta di pollo, vero? Io? No, mai Ah si vede Ma una dieta però dovrebbe farla, sa? Perché le ammalate sono gelose di vedersi sempre davanti una ragazzona piena di salute come lei E gli uomini diventano nervosi Se poi invece vuole conservarsi in forma Cambia almeno il suo abbigliamento, giusto? Ho capito professore Da oggi in poi mi vestirò dalla sarta di sua orbeatrice L'abito non fa la monaca Che profumini qui! Ah! Potessi restare a colazione con voi Oh no! Basta con queste coscette di bullo Oh no! Buongiorno, buon pranzo Grazie Buon appetito, buon appetito, signor Pasqualina Buon pranzo, signor Pasqualina Buon pranzo, buon appetito, signor Beatrice Buon pranzo, buon pranzo, buon pranzo, buon pranzo Giovedì alle 21 con Iris C'è solo vivere ogni momento Perché ogni giorno può essere un nuovo inizio Oggi è il giorno in cui condividere Oggi è il giorno in cui rischiare Emozionarsi Sperimentare Oggi è il giorno in cui scoprire che per vivere meglio Basta poco Anche in HD Non abbassare la guardia Entra in partita con premium goal Vedi tutto il calcio che conta a 24 euro al mese E se ti abboni subito Hai anche 6 mesi gratis di grande cinema Chiama all'199 309 309 Un hotel a un solo prezzo? No Ogni sito web ha un prezzo diverso Ma con Trivago trovi il migliore Hotel Trivago L'acqua sa di acqua E con l'acqua le verdure cuociono e basta No verdure Ma con il nostro Dado Star le arricchiamo di sapore Mmm verdure E tu? Continui a bollire o vuoi arricchire con Dado Star? Bip Zero L'unica tariffa senza canone Che ti fa parlare a zero verso tutti Fatti furbo Fai risparmiare il tuo telefonino Incredibile Ma bip Ogni giorno l'Iraq premia la mia pelle Rendendola più luminosa Più giovane Più bella E da oggi Mi premio ancora di più Con un acquisto di 59 euro in trattamenti anti-età l'Iraq In regalo per te Un prodotto della linea Sensorielle L'eccellenza della tecnologia anti-età l'Iraq In farmacia Ecco Abirocket Twister Roccheggi e giri e modelli i tuoi addominali così Non è mai stato così facile essere in forma Con meno di 5 minuti al giorno La B-Rocket Twister trasforma la tua panciona in tavola piatta e scolpita Con veri addominali Quindi hai il doppio degli addominali scolpiti Senza fare movimenti sbagliati Con il movimento di rotazione gli addominali obliqui lavorano veramente e sento bruciare il grasso Perfetto Insieme amiamo cucinare e mangiare Noi portiamo la dentiera e usiamo Algasiv Non si impasta e mi sento la bocca pulita Algasiv è un cuscinetto adesivo che ti dà una tenuta forte, pulita e non lascia resivi sgradevoli A noi piace il pulito Vero Algasiv, pentiera ferma e pulita D'inverno come ti prendi cura del tuo sistema immunitario? Di sicuro con le tue grandi abitudini E con i tuoi grandi rimedi Da oggi prendi anche un'altra piccola grande abitudine Actimel di Danone ogni mattina Pensato proprio per il sistema immunitario Actimel oltre alle casei ha le vitamine D e B6 Che aiutano la normale funzione del sistema immunitario E ti aiuta ad affrontare al meglio la tua giornata Actimel, il tuo rinforzo ogni mattina Vai su vividanone.it Per te 40 euro di buoni sconto Iscriviti subito La prossima volta che ci vediamo io sarò una signora sposata Io invece sarò una signora non sposata Al tuo romanzo I miei ringraziamenti al movimento delle donne Perché quelle finiscono sempre a sole? Dovrebbero avvertirti prima di farti innamorare Non si guarisce mai dalla prima persona di cui ci si innamora Quando un uomo sposato se ne va con la migliore amica di sua moglie Ecco che si verifica l'occasione del sospetto Tu sarai mia amica, vero? Per il ciclo Essere Donna Vorrei tanto capirvi voi due Jacqueline Bisset, Candice Bergen Ricche e famose Martedì alle 21 con Iris Pronto? Sì? Un momento Guido? Chi è? A telefono Che? Chi è? La dottoressa Natoli E chi gli ha detto che c'era? Certo dove vuoi essere a quest'ora? Ha detto che si tratta di un caso urgente E che ti pare? Appena arrivato in clinica è già trovato un caso urgente Quello Pronto? Sì Natoli sono io Dica Che c'è di tanto urgente? Si tratta di quella ragazza ricoverata per minaccia di aborto Improvvisamente accusato Dolori all'addome e all'epigastro Con nausea e vomito La temperatura è salita È chiaro che si tratta di una gravidanza extrauterina Cosa dobbiamo fare? È chiaro dice Natoli anche la settimana scorsa era chiaro Poi invece Ma ora non ci sono dubbi professore Il Douglas è pastoso C'è un senso di resistenza dal lato della tromba gravida Ipotensione arteriosa Polso frequente Bisogna operare d'urgenza E l'estruterina è una delle diagnosi più difficili Come fa ad essere tanto sicura? Professore sono da molti anni in sala parto Credo di aver imparato qualche cosa Faccia così Applichi delle borse di ghiaccio Controlli ogni tanto la pressione E disponga per fare un'eventuale trasfusione E domani mattina deciderà il dottor Cariglia Se è necessario o non operare Come vuole lei professore Cos'è successo Will? Eh? E che è successo? Una ragazza che abbiamo ricoverato con dolori addominali Forse una minaccia d'aborto È l'anatole di cestro uterino E tu perché non chiami Cariglia? E come perché? È una mutuata dell'Empals L'Empals paga 10.000 lire Chiami Cariglia che prende 80.000 lire Solo come supplemento notturno E invece domani mattina rientra nella normale routine E la spesa è contenuta in una cifra ragionevole Sempre più di quello che paga la mutua Ma comunque ragionevole Scusa E se non arriva domani mattina? E chi lo dice? È una ragazza giovane Forte, sana E lanatori Fanatica Che fa sempre le tragedie Io non glielo faccio più fare Il turno di notte a quello E poi Si decidesso delle mutue A passare la pillola Abbiamo fatto male a telefonare Bisognava chiamare il dottor Cariglia e tutti gli altri Senza domandare il suo parere Ma certo Guido Guido Non riesco a dormire Sto pensando a quella ragazza Telefona Fa venire l'ostetrico Falla operare Ma che dici? Sai cosa costa far alzare Cariglia? Questo che le mutue non si capisce Tu hai ragione mamma Io non riesco a dormire se penso a quella poveretta Niente pensare Se sapessi che succede nelle cliniche Non dormiste tutta la notte Anna Maria Dormiamo? Ti prego Guido Telefona a Cariglia Sono io il medico Non so io quello che faccio Sta tranquilla Dormi Dormi Buonanotte Anna Maria Non va bene Non va bene Pronto? Cariglia sono Tersilli Scusa se ti svegli a quest'ora Dovresti fare un salto a vita celeste L'Anatoli dice che c'è un estroterino Io non ci credo Hai visto mai che avessi ragione Grazie Ci vediamo domani Ciao Cariglia Contenta? Grazie Però se l'Anatoli Si è sbagliata Alla notturna a Cariglia La faccio pagare a lei Altro che Il suo caso Signora È un caso difficile Molto interessante Una bellissima neoplasia Proprio all'altezza del professor Azzarini Bravi Grazie di aver pensato a noi Si accomodi signora Gli interventi del professor Azzarini Si dividono in tre categorie Prima, seconda e terza categoria Nel suo caso Io non conosco le loro condizioni economiche Siamo preparati a tutto Si I soldi non già mancano Beh, e che so Bene, è così che si parla Di fronte armale Ci siamo pure venduti la terra Bravi E' tutto quello che avevamo Per quel che renda oggigiorno la terra Allora di prima Il professor Azzarini prende 1.200.000 lire Il 20% al primo assistente Il 15% al secondo assistente Il 10% all'anestesista Salo operatori, analisi, renta giornaliera Dove li sistemiamo? Corsi di agnostica 46 E complessivamente? 2.800.000 Contenti? Signori Se la spesa vi sembra eccessiva Noi qui in clinica Abbiamo degli ottimi chirurghi Migliori del professor Azzarini? No! Azzarini il primo Allora no I soldi suoi miei Voglio superare da Azzarini Che fame fissi? Per male tu so calato i 30 kg Mannaggia Per regolarità dovreste versare Un certo anticipo Ma siamo sicuri che guarisco? Signora Il professor Azzarini È il migliore che c'è in Italia Ma bisogna pregare Pregare? E io prego Ecco Mi muoce già a fede E lei no? No, io no Perché frega? Piene di salute quello Dica Vengo subito Andiamo signori Buongiorno professore Benvenuti la celeste Come va? Grazie a te La trovo bene Lei conosce i ragazzi Vero? Come no Il caro di amici Poi là La dottoressa Olivieri La nostra nuova dietista Mi faccia sapere la dieta Che segue lei La inviti a cena professore Andiamo Via 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 signori Via 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 Anziana molto ricca Ha voluto un appartamento completo Il migliore Un'assistenza infermianistica particolare Ed è sempre circondata da nipoti Da parenti Via 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 Secondo me è agli estremi Non decurtisce più Non digerisce più Io ho convinto i parenti A chiamarla per un consulto Professore ma Fatto bene Non è un caso operabile Siccome posso Insisto Grazie professore Buongiorno Buongiorno professore Permesso baronessa Guardi chi c'è Il professore Azzalini Grazie di essere venuto Professore Come va Baronessa La baronessa ha 70 anni Senza figli Ma ha dei nipoti Che si interessano Affettuosamente alla sua salute E ai miei soldi Il suo peso attuale È di 38 chili Il panicolo adiposo È completamente scomparso E le masse muscolari Ipotoniche e potrofiche Ha un troasier Chiaramente palpabile Se vuole vedere le lastre È chiarissimo Gastrectesia Estenosite Quante parole Per dire che Ho un cancro allo stomaco Sì Via di buon animo baronessa Tutto andrà bene E allora professore Non è operabile Tutto al più Possiamo fare un'anastomosi Diretta dall'esofago All'intestino Sì professore Un tubicino Per poterla alimentare E non lasciarla morire di fame Giusto professore Ma se non può guarire Perché tormentarla E quanto crede possa durare Ma se non è operabile Tanto vale portarla a casa Non credo signora Che la loro parente Potrà ricevere a casa Le cure Le assistenze Che è gratuito Settecentomila lire La settimana sono Sono nulla Per chi soffre Signora Prego professore Chi è? È sua eccellenza Regalbuto Ricorda? Regalbuto? Sì È stato capo di gabinette Sua cifra Ma certo che lo ricordo Sua moglie È stata l'amante di No Ma certamente Ma certamente E mille altri Anche sai Una donna di grande temperamento Guardacela ancora negli occhi Donna stupenda Sai chi mi ricorda? No La tua bella moglie Caro eccellenza Quanto tempo è passato Eccovi eccellenza Mi dica su Come andiamo? Grazie di essere venuto Dottore Lazerini Dovere e anche piacere E poi mi dica Come si trova Vila Celeste? Non poteva consigliarmi me Ha visto? Professore Terzini Stato verso di me Di una gentilezza straordinaria Non lo dica eccellenza Non lo dica Tutto il personale Grazie eccellenza Lo viverò Dottore eccellenza Professore come le dicevo Sua eccellenza Ha sempre goduto Di una salute di ferro Ma in questi ultimi tempi Le pulsazioni sono frequenti E il respiro affannoso Più che affanno È una sensazione di Sete d'aria Sete d'aria Fame d'aria Fame d'aria Ecco Non dire stronzate Scusi Piuttosto un'altra cosa Non mi fate venire in camera Quella dottoressa Olivieri E poi là Perché? Che è successo? Non è successo niente Ma potrebbe succedere Qualche cosa Ben da madre C'ha un culo da infarto Ah Questo si è eccellenza Roba di giovinezza La va fare molto meglio Giovinezza 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 Che facciamo E ce la mandiamo via? No No Mai Quella femmina La farei camminare Sotto di me Come un tappeto Buongiorno 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 Apparentemente sano Ha partorito cinque mesi fa Da allora ha notato delle contrazioni urinarie Il suo tasso azotemico è salito da 1,20 a 2,40 Avevamo pensato di sottoporla ad una dialisi extrarenale Col nostro rene artificiale Cosa ne pensa lei professore? Lastre Lastre Qui si tratta di un vaso anomalo Che comprime l'uretere Quindi inutile tentare le solite terapie mediche Qui bisogna intervenire chirurgicamente Il rene così liberato da questa impregnatura Riprenderà a funzionare normalmente Signori buongiorno 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 Ha sentito che ha detto il professore? Andrà tutto bene Oh credo 2,8 milioni Professore Come lei ha potuto constatare Purtroppo si tratta di gente poverissima E che non ha nessuna mutua Tersilli, Tersilli Tu ogni volta mi porti il tuo piccolo caso pietoso I poveri mi fanno tanta compassione professore Va bene Signorina Lei terrà nel dovuto conto La raccomandazione del dottor Tersilli Scusami del professor Tersilli La ringrazio professore Se no ricordati I poveri sono sempre quelli che pagano meglio Quante cose devo ancora imparare da lei professore Sì Sì Arrivederla Addio caro Arrivederla professore Arrivederla professore Professore Allora lei quando pensa di fare questi due interventi? Caro Tersilli Lei lo sa Non dipende da me Dipende tutto da questa mia tiranna Ah 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 E lei che decide E lei che mi tiene in pugno Sì? Io non sono altro che uno strumento nelle sue mani Mi raccomando a lei signorina Fabiana Consulterò la mia agenda Poi le conere Grazie Spero presto Devo tener conto di tutti gli altri impegni E non voglio che il professore si affatichi troppo Senz'altro I miei rispetti Arrivederla professore Arrivederla professore A lavoro signori Lo spettacolo è finito Ma questo è stato un campino Ma questo è un campino Ma questo è un campino Ma ti immagini quanto ha speso questo? Ma questo non dite Ah beh guarda Bisogna riconoscere che ha dei quadri maravigliosi Buonasera Buonasera Signori mi raccomando Non fate complimenti Servitevi Il truppo Io mangio Non ti avventare sugli altri Guido? Che c'è? È arrivato un ammiraglio profitto Da fì Ok devo morto Sì ragazzi Caro ammiraglio Io parlo a un medico Il discorso è un po' scabroso Io ho sentito dire che A una certa età Questo Gerovital Raddoppia le possibilità Raddoppia come dire Le capacità Sono due cose diverse Comendatore Le possibilità dipendono dall'ambiente in cui si vive Dai mezzi E persino dalla conoscenza delle lingue E chi c'è il tedesco per esempio d'estate al mare Buonasera Bene arrivato Anna Maria Buonasera Che gioia vederti Come sei bella Grazie Come sei giovane Hai visto? Hai capito perché Arzelini opera a Villa Celeste? Professore i miei rispetti Grazie di essere venuto Addio caro Ho saputo che ha dovuto rinunciare ad un simposio degli spastici professore È stato un piacere Invito di un amico supera ogni simposio Lei conosce i miei collaboratori Vero professore? Buonasera Sono suoi ammiratori Buonasera a tutti Ecco il nostro vecchio Damatis Buonasera Carissimo Eccolo chi ha trovato il segreto dell'eterna giovedì Cosa vuoi dire? Voglio dire che quando ho preso la laurea tu eri già assistente di Gambarelli E oggi sembri mio Ah Mio caro Tu forse dimentichi che io sono stato il più giovane laureato in medicina d'Italia Oh è vero? Me ne ricordo io Quando si è laureato era vestito di balilla Mariotti Mariotti Ma ti mazzo dici professore? Una coppa di champagne? Chissà quanto guadagna Tersili sulle operazioni di Azzarini No sta tranquilla che Azzarini una lira non gli alleviene nemmeno con le tenaglie Azzarini no ma i pazienti si Gli basta dire con un'operazione di prima categoria invece che di seconda e tasca di fare Pensare che non paga lo straordinario neanche per i turni di notte Io l'ho capito fin dal primo giorno che è arrivato all'ospedale di San Sepolo Vi ricordate? Ho detto quel Tersili non mi piace No veramente questo l'ho detto prima io Io non mi piace Come ho detto che cosa ero Sandrino mi umilia continuamente Anche oggi in presenza di suor Beatrice mi ha detto che la titta dovrei farla io Ma che... Ma li vedi? Sì Sì Ma tu lo sapevi? Sì Me l'ha imposta lui in clinica Che porco Sai che cosa dovremmo fare Sandrino? A prima una clinica anche piccola Oggi le donne pur di ringiovanire sono disposte a fare qualunque cosa Mica sce Lei lo sceme è lui Ma faremo un sacco di soldi Cara ma certamente io faccio quello che vuoi tu tesoro Quello che vuoi tu Secondo me il sistema migliore è quello del National Health Inglese Dove chiunque per il solo fatto di essere venuto al mondo Ha diritto all'assistenza medica gratuita Ah sì Ah le pare bello? Sì Ebbene lei sa che cosa guadagnerei io In Inghilterra se naturalmente gli inglesi mi concedessero il diritto di dirigere un loro ospedale 900.000 lire al mese Questo a lei sempre giusto? Forse no Ma gli inglesi un anno sì e un anno no Portano a casa un premio Nobel Se lei ci ha fatto caso Ogni mattina tranne la domenica Una piccola parte dei 46 milioni di italiani che hanno diritto all'assistenza sanitaria Premono contro gli sportelli degli uffici ricoveri delle mutue I medici funzionari sono gentili e comprensivi Fino al punto di consigliare al mutuato la clinica dove farsi ricoverare Allora io le consiglio di farsi ricoverare a Villa Celeste Ne abbiamo scelta una per la nostra inchiesta Una delle più recenti e moderne Villa Celeste Professore che cosa l'ha spinta a costruire una nuova clinica a Roma dove già ne esistono 250? Non certo l'idea di fare come molti possono credere Quel che si dice un buon affare No Mi ha spinto il desiderio, l'ansia di offrire ai miei mutuati un asilo sicuro Quanti mutuati ha? Vuol dire quanti ne avevo Come primario di una clinica ho dovuto rinunciare ai miei vecchi mutuati Ma non li ho abbandonati Li ho diciamo così distribuiti tra medici e amici Di cui conoscevo il valore professionale e lo scrupolo Perché ho chiamato presso di me un gruppo di giovani medici Dove siete miei cari? A cominciare dal professor Diamatis, mio primo maestro Ma soprattutto tuo amico caro Tersini Esatto caro, valenti sanitari, specialisti sperimentati Ma soprattutto degli amici Voi là? E che amici? Ecco bravo, una vera e grande famiglia No, non a me È vero come nato Valenzano che la vostra clinica è stata costruita su un terreno appartenente a un ordine religioso Sì Mi sei ricordioso Un ordine estito dalla sua fondazione è stato creato per assistere gli infermi e i malati Però quelle cape di pezzi, questo terreno ce l'hanno fatto pagare appeso d'oro Del resto come lei sa Tutti i terreni a Roma, sa come li chiamano? Gli ettari d'oro Eh Papà, ma che cavolo sei andato a te? Ma te lo sa tutta Roma, papà sto a piacere Gli ettari d'oro, non esageriamo È vero, reverenda madre, che Villa Celeste è sorta su un terreno che era stato destinato a parco pubblico per i bambini poveri del quartiere? Ma quante cose sa lei? È vero, ma i tecnici del comune pensarono che sarebbe stato più facile adattare a parco pubblico una zona dove c'è un piccolo laghetto Ecco la zona dove giocheranno i bambini Ma mancherà? Ma mancherà? Ma mancherà? E' proprio una cretina questa sua Maria Ospedale o cliniche private? Senti a questo proposito l'opinione del professor Bettanotti Io sono decisamente contrario alle cliniche private Sono delle sanità che succhiano lo stale mucchio centinaia di miliardi all'anno Miliardi che andrebbero più utilmente impiegati per potenziare gli ospedali Che come tutti sanno sono un grande ospedale Venduto! Soltanto nei grandi ospedali i giovani italiani E perciò è venuta l'ora di dire basta Incompetente e disonesto Guarda guarda come se l'apprende Allora lei è favorevole alla creazione di ospedali pubblici Grazie professore E sentiamo ora l'opinione di un altro illustre cattedratico Il professor Gustavo Azzarini Professore! Eccolo che si avvicina all'altro Professore lei che ne pensa delle cliniche private? Sono assolutamente favorevole al sistema della clinica privata Innanzitutto per una questione di principio In quanto fermo sostenitore della libera iniziativa in tutti i campi Ricordi io considero la clinica la sola vera arena La palestra dove i giovani talenti possano addestrarsi e perfezionarsi In quanto nei grandi ospedali e non lo dimentichi Trovano una strada regolarmente sbarrata dagli illustri cattedratici Che non sanno e non vogliono rinunciare ai loro assurdi privilegi Ecco come si può Grazie professore E' stata una vera fortuna poter incontrare il professor Azzarini Titolare della cattedra di chirurgia all'università Dato che il maestro tiene lezione una o al massimo due volte all'anno Concludendo Le cliniche private non danno alcuna garanzia ai pazienti In quanto i medici non vengono scelti attraverso concorsi E chiunque vi può esercitare Insomma la tragica arretratezza dei nostri ospedali E' dovuta al pullulare delle cliniche private Autentiche sanguissughe Penso che sarebbe meglio segnare la televisione Italo mi senti? Hai visto la trasmissione? Un insulto alla classe medica Calmarmi? Non mi sogno nemmeno E poi la cosa non finisce qui Io mi farò sentire in alto Molto in alto Eh no Se i cinesi sono in televisione Ditemelo Che almeno io lo sappia Ha fatto bene professore Mi son fatto sentire eh Eh perbacco l'abbiamo sentita Non so prendo a professore in fondo e tutta pubblicità Mamma ti prego Sai cosa ti dico? Tua madre forse ha ragione Mamma ha sempre ragione Una donna straordinaria signora celeste Ancora champagne Grazie cara Io me ne vado Domani mattina devo alzarmi presto Mamma domani vai in Svizzera a farsi una serie di controlli medici Come ha ragione La le fanno bene seriamente Non come da noi E si spende meno della metà Arrivederci E' una cosa che ho sempre rimproverato ai colleghi svizzeri Prendi per esempio Vanotti Forse più grande clinico Tu lo sai che abbiamo in Europa Sai cosa prende per una visita? 15.000 lire Ma che ti dice? Ma da noi neanche l'ultimo degli assistenti Ma da noi neanche E seulum thinge Ma che sì Po prende per la lateral Sembrano proprio una banda di gangsta. Adesso lo portate il paziente? Pronto, professore. Biscoli. Maratona Queer Sunday. Adesso come facciamo a sapere dove andiamo, eh? Un viaggio... Sei carina. Per superare... Le avversità. Non erano donne. Per credere... L'istinto. In sé stessi. Uno di loro era nero. Per sconfiggere. Si corrompono con il loro modo di vivere. La diffidenza. Questo viaggio fa schifo. Fa schifo. A Wong Fu. Grazie di tutto. Julie Neumar. Chi era Wong Fu? Domenica alle 21. A Wong Fu! Con Iris. Con Iris. Il colesterolo è un nemico che può accumularsi nelle arterie e causare problemi al cuore. Un consiglio. Vita sana e un Danacola al giorno. Grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo. Funziona. Ma pure nel 2020? Sì. Nel 2034? Fabracino. Per sempre. Significa per sempre, no? Solo su rete tele tua e ADSL senza limiti e telefonate a zero ha solo 24,90 euro al mese. Per sempre. Ma per quanto tempo devo stare così? Fabracino. Per sempre. Chiama il 1922 entro il 14 marzo. Siamo arrivati, Molly! Wow! Scusa, Mario, ho un mal di testa. Mal di testa? Molly! Puoi provare Moment Capsule Molly. Più male? Puoi provare Moment Act Capsule Molly. Capsule Molly, tecnologia liquida. Facili da deglutire, si assorbono rapide e il mal di testa passa veloce. Scappo. Ciao Molly, grazie. Carina, eh Molly? Capsule. Sono medicinali a base di ibuprofene che possono avere effetti indesiderati anche gravi. E leggere attentamente il foglio illustrativo d'Angelini. Lo smalto è la protezione naturale del dente e si danneggia ogni giorno. Bio Repair è l'unico dentifrice al mondo che lo ripara perché è fatto della stessa sostanza dello smalto e lo protegge da carie, placche e tartare. Bio Repair, i tuoi denti per tutta la vita. L'acqua sa di acqua e con l'acqua le verdure cuociono e basta. No, verdure. Ma con il nostro da dostar ne arricchiamo di sapore. Mmm, verdure! E tu? Continui a bollire o vuoi arricchire con da dostar? Zio Rigo, pensa se il calcio non esistesse. Beh, forse farei cidema. Dai ragazzi, grinta, eh? Azione! No, 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 non mi piace. Sostituzione, tu scaldati. Io. Il calcio c'è ed è una grande passione. Con Premium Goal vedi Serie A, Serie B, Champions, Europa League a 24 euro al mese. Ma c'è di più, per sei mesi hai anche il cinema gratis. Zio Rigo, ma pensa se... Pensa a correre, dai! Chiama all'199 309 309. Media Shopping, consiglia! L'H2O X5 è diventata la vostra scopa a vapore 5 in 1 preferita. La scopa a vapore è adatta per ottenere pavimenti senza macchie. Maneggiatele e giratela con facilità, mentre il panno di microfibra solleva e cattura polvere e sporco. È perfetta per dare nuova vita ai tappeti. Quando lo desiderate, si trasforma in una scopa a vapore a mano. Dite addio agli lavandini, banconi e fornelli sporchi. È uno strumento incredibile per finestre, vetri e specchi, per sconfiggere velocemente i residui di sapone, le macchie di sporco e il calcare. C'è anche una spazzola per indumenti e tessuti. Eliminate le spese della lavanderia usando l'H2O per rinfrescare e ravvivare anche i tessuti più delicati, come la seta. Chiamate subito e riceverete il prodotto più innovativo per la pulizia della casa ad un prezzo davvero conveniente. Non lo trovate nei negozi. È un'esclusiva a Media Shopping. Mediashopping.it, il sito dei prodotti visti in tv. Ma ho il sorriso già di prima mattina. Activa fa sorridere la mia pancia, così sorrido anche io. Activia di Danone contiene il Bifidus Acti Regularis, che favorisce l'equilibrio della flora intestinale. Questo sorriso è proprio contagioso. Activia! Paolo! Dai, forza! Oh, dai! Essere fantuziani. È molto umano. Perché fantuziani non si nasce, ma si diventa. Da così a così. Un metodo abnegazione. Professionalità. La belva umana. Oh, beh, fa umana. È una merdaccia. La prova di bocca, calda! Ciclofantoziana. I cloni. Sabato in prima serata. Con Iris. Ciclofantoziana. 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 Non muovere, ciclofantoziana. Calma, 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 calma. Sono anche i rappresentanti dei medicinali, eh che è. Credo di sì, professore. Sor Beatrice, il nostro professore Azzarini ha già cominciato l'intervento? Il professore Azzarini dice che l'assegno non va bene. Eh, non c'è motivo di agitarsi, che aspetti, no? Ma infatti il professore li fermo che aspetta. Ma perché non va bene? Eh no, non va bene, no, non la posso accontentare. Io glielo ho detto, mi dispiace che succedano queste cose che non dovrebbero mai accadere. Sono 4 milioni e 250 mila e non 2 milioni e 250 mila. Scusi, ma che calcoli fa lei? Sono 3 interventi. 2 di seconda 750 mila di re, 1 di terza 500 mila. No, caro professore, sono 2 di seconda e 1 di prima. Ma quale considera di prima, scusa? Quella di questa donna, la contadina. Signorina Fabiani, ma che dice? Ma non si ricorda che il professore si è raccomandato tanto di chiudere un'occhio per questa contadina? Sì, il professore dice, dice, ma poi se non dimentica se la prende con me. A parte la contadina, lei quale considera quella di terza? È quella della baronessa, no? Ma come? Se mi ha detto lei che la baronessa è piena di soldi. Che fa lei, sorella? Lava i ferri, professore. E manca per la pregare, ma cammina. Ma che c'è piena di soldi? È una la paratomia esplorativa, scusi. Senta, professore, facciamo così. Consideriamo tutti e tre gli interventi di seconda, va bene? E consideriamo, Riva, se no ci confia veramente un dirigibile questo con tutto l'ossigeno che consuma. Venga di qua, va, signorina Fabiani. Va bene, facciamo questo calcolo, su. Dunque sono 750 mila per 3 che fanno 2 milioni. No, 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 aspetti, aspetti un momento. 750 mila per 3 fanno 2 milioni e 250 mila, signorina. Sì, più la percentuale dell'equip è il 55%. 55%? Sì. 5 per 0,0, 5 per 0,5 per 0,5 per 25, 1 milione e 237 mila e 500. Più 2 milioni e 250 mila. Più 2 milioni e 250 mila. 0,0, 0,0, 0,0, 0,5 per 25, 1 milione e 55, sono 3 milioni e 487 mila e 500. ESATTO? ESATTO. 3 milioni, 487 mila e 500. Grazie. Attacca maestro Bistori Siamo in una clinica Siete rappresentanti dei medicinali Non vendete saponette Una alla volta vi dicevo tutti Non lo credite Sono felice di vedere la splendente di Sopo Chi sei? Ma lei è stata qui anche l'altro giorno Ogni promessa è detta Che è? Ah Bellissimo Omaggio della Luca 3.486.000 Vieni vieni Diamatis Ho qui una lettera del povero Pestilli Che è morto? No dico povero per dire che esercita Catania L'ha portata una signora che ha il bambino affetto da stenosi mitralica Pestilli la consiglia di farlo visitare dal professore Azzarini Perché ha scritto a te? A me a te Beh che? Naturalmente Ci ha attaccato il chiodo? Un chiodino? Avrei da mostragli dei prodotti nuovi Dopo 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 Colombo eh? Che sono ebrei? Non lo so La signora mi ha detto di avere un negozio di tessuti Eh tessuti colombo ebrei no? Il cuore è ingrandito Specie il ventricolo sinistro Animato da espansione sistolica Dilatazione dell'atrio sinistro Contrazione prematura Dica di che? Lo si vede meglio nell'elettrocardiogramma Segni di sovraccarico ventricolare sinistro Sì C'è Contrazione di ampiezza e durata maggiori del normale Spesso con un cino Ma professore ha visto? Ho visto, ho visto, ho visto Sono paroloni Non ti lasciare impressionare Sai bimbo? Ci sono abituato professore C'è qui la cartella clinica rilasciata da dottor Pestilli Piuttosto che... Ti la vedo dopo Voglio studiarla con molta calma Signora quando ha avuto l'ultima crisi il suo bimbo? La settimana scorsa Proprio dopo la prima comunione Ah, dopo... Beh, allora Come hai detto? Loro non sono ebrei? No, perché? Ma voi non avete degli interventi? Che fate? Bene, avevamo quattro Ma Azzarini ha voluto avere a disposizione tutte e tre le salle operatorie Ah, istancabile il nostro Azzarini Istancabile Non ci ha nemmeno permesso di assistere Come se temesse che gli carpissimo qualche segreto Proprio così Andate, non conosci Beh, ma dico Fra mezz'ora avremo una sala libera Arrivederla, signora Andiamo per la parola Buongiorno, signora Andate, miei cari Andate ad operare Venga, signora Passiamo nel mio studio La sua decisione di fare visitare il bimbo dal professore Azzarini Dimostra quanto amorosa lei sia come mamma Speriamo di aver fatto bene Mi hanno detto che il professore Azzarini è uno dei migliori Non uno dei migliori, il migliore Vengono da tutto il mondo per consultarlo Sarà bene avvertire il professore Azzarini prima che vada via Sì, ci penso io Oggi non vorrei che fosse troppo stanco Intanto possiamo fare delle ricerche al nostro paulino, signora Abbiamo tutto, professore Radiografie, stratigrafie, elettro cardiogramme, analisi Sì, lo so, signora Ma io preferisco far fare le ricerche ex novo dai miei collaboratori Buono, paulino No, lo lasci giocare, signora Intanto possiamo trovare al nostro paulino una bella sistemazione Una camera che dia sul giardino Non c'è nessuna camera libera E invece c'è, sor Beatrice C'è, vero? Va bene, professore Sì Per il nostro paulino c'è sempre una camera libera Grazie, professore Sigaretta? Non fumo, grazie Vogliamo andare? No, io in corsia, non ci vado Io pago carne, salate, voglio la camera Appena si fa libero un'altra camera Mi chiamo il professor Tensile, voglio guardare Brighiamoci per favore, su A mezzogiorno, minestrina e coscetta di pollo con zucchine e frutta cotta E' proprio le cose che non ci piacciono Bene, scommetto che la dottoressa Oliveri ha già preso il nostro paulino sotto la sua tutela Vuoi vedere che indovino che cosa ti ha prescritto, paulino? Minestrine in brodo, coscetta di pollo e carotine No, zucchine Ah, è bollito e scommetto Dottoressa Olivieri, il nostro paulino può mangiare di tutto, poco ma di tutto Perciò senta che cosa preferisce il bimbo Com'è buono lei, professore, con i bambini E con le mamme Sono papà anch'io, signora Colombo Permette? Dunque ho parlato con il professore Azzarini Ma purtroppo, come prevedevo, era molto stanco E io voglio che visiti paulino con calma E allora quando? Ma se avremo fortuna, così mi ha promesso la sua segretaria la settimana entrante La settimana entrante? Sì? Signora lo sa che ci sono dei pazienti che aspettano anche due mesi? Sì, sì, lo so, ma... Che fa lei? Resta a Roma, vero signora? Eh no, no, purtroppo io devo ritornare subito a Catania Io sono la titolare dell'azienda e domani c'è la tributaria Verrà... verrà mio marito per stare vicino a Paolino Ah, non si preoccupi per Paolino A Villa Celeste Paolino sarà come a casa sua E io veglierò sul bimbo come se fosse mio A che ora parte il suo aereo, signora? Alle 19 e 20 Se permette l'accompagno Vede, signora, l'aeroporto è là ad un tiro di schioppo A volo d'uccello, come si dice? Eh, che peccato Visto? Eccoci già arrivati all'aeroporto, signora Coradina Non so come ringraziarlo per la sua gentilezza, professore Posso suggerirlo io, signora Coradina? Mi dica, professore C'è un aereo alle 23.40 per Catania Prenda quello, signora Coradina Perché, professore? Potremmo ancora stare un po' insieme Eh, ma sono più di cinque ore Le sembrano molte? No, ma... Ci sono momenti e atmosfere che non si possono ripetere Guardi che meraviglioso tramonto romano Prenda l'aereo alle 23.40 per Catania, il signora Coradina Ma come faccio? Mio marito mi aspetta all'aeroporto Penserà che lei ha perduto l'aereo? Io sono sempre così puntuale E appunto per questo lo penserà Dove mi porta, professore? Ha fiducia in me, signora Coradina? In lei, signora E allora via Senza esitare È un caso che mi preoccupa Gli ho fatto una strofantina Ma se continua così bisogna chiamare Tersili Ecco Scusi un momento Una telefonatina in clinica Vengo subito, signora Coradina Pronto? Sono io Ah, sei tu Dimmi Quale congresso? Ma non mi avevi detto niente Sarei andata dal parrucchiere Beh, non importa A che ora passi a prendermi? Eh, no, cara Non è il caso che tu venga È una serata inaugurale Non è il banchetto di chiusura Le signore non sono invitate Eh, mi dispiace, cara Perché non vai al cinema con papà? No? Eh, io Non lo so, cara Appena finito il congresso, eh Bene Allora buon divertimento Eh, sai che divertimento Dovrò stare per delle ore con la cuffia, cara E per la traduzione Sono quasi tutti stranieri Ah, ci sono tutti Barna De Baki Culei Patè Popoff Tutti, tutti Se non vado io, cara Penseranno che sono contro i trapianti Fammi andare a bacino, cara Mi scusi, signora Coradina Prego A Villa Celeste dormono tutti come degli angioletti Come si preoccupa lei dei suoi malati? È la mia vera, sola e grande famiglia Guardi Che cos'è? È il mio guscio Le piace? È sua? No, ufficialmente di una società panamense Per le tasse Ma in effetti è mia, signora Coradina Permette? No Oh, caccia Su Eccomi Il capitano Torsilli le dà il benvenuto a bordo della Celeste Seconda Lei ha proprio tutto, professore È il mio unico svago Adoro il mare A volte, quando posso, raramente, purtroppo Io mi rifugio qui con i miei marinai E corro il mare come un vecchio corsano Che bello Sì Le piace? Sì Ma non ci saranno solo i marinai? Eh sì, purtroppo A mia moglie non piace il mare E com'è possibile? Molte altre cose non le piacciono Abbiamo gusti diversi, signora Coradina Non è felice lei, professore? No E lei, signora Coradina? Non me lo domandi No? No Suo marito è sicuro? No, è piemontese, ma ci ha piantato in Sicilia No Quando? Non sapevo che vi aveva piantato No, mio marito ci ha piantato in Sicilia Oh, tra piantato! Perdone l'accento Lo adoro Non lo cambi, signora Coradina Ah, non c'è pericolo Dove mi porta? Non ha fiducia in me, signora Coradina In lei, sì, professore Stia attenta alla testa No, non nasce Pronto, casa Tersili? Mi può chiamare il professore? Ma che fanno? Lo stanno cercando Sì? Hai uscito, è andato all'Eur Un congresso di cardiochirurgia? Bene, grazie Vengo, vengo A quest'ora telefono Sì? Palazzo dei congressi Come? No, no, non c'è nessun professore qui Niente Il congresso si apre domani Sì Buonanotte Professore, volevo sapere Se Guido ha detto una bugia o no Mi ha detto che le signore Non sono invitate Questa sera All'apertura del congresso Ah, è il congresso di cardiochirurgia All'Eur Oh, perbacco Quella sciocca della mia segretaria Aveva detto che era per domani sera Ho appena il tempo di prepararmi Per fortuna Che la mia relazione Era già pronta Ma Senti un po' Anna Maria Dato che mia moglie Se n'è uscita Perché non mi accompagni tu? Pronto, casa Tersilli È tornato il professore dal congresso Ancora no Mi scusi Ma è un caso molto urgente Ah beh Sarà da qualche paziente Cicci Cicci Che fa, professore? La sfoglio, signora Coradina Perché, professore? Non ha fiducia in lei, signora Coradina? In lei sì, professore E adesso che fa, professore? La bacio, signora Coradina Posso dirle una cosa, professore? Nabu, lì dopo No, prima Dilla Dal primo momento che l'ho vista Io l'ho amato Venga Venga, signora Fredina Dove mi porta, professore? In poppa, signora Fredina Non ha fiducia in me? In lei sì, professore Venga, signora Fredina Come dice il poeta Arma la poppa E salva Suor Beatrice Non possiamo più aspettare Bisogna chiamare il professore Azzarini La prego È urgente Chiami casa Azzarini Speriamo che almeno lui ci sia Il professore Azzarini? Non c'è? E anche lui è al congresso dell'Eur Va bene Allora richiami il congresso Beh, ma qui è tutto chiuso Non c'è proprio nessuno Ma allora aveva ragione la mia segretaria Volevamo fare una sorpresa a Guido E invece l'ha fatta lui a noi Sì, a meno che non ci sia Un altro congresso di cardiochirurgia Lei crede, professore? Ti sembra molto difficile Povero Guido Si sta facendo ogni giorno più distratto Già Il padre della Fiorentina dunque Al comunale di Firenze La medicina sta ottenuta Nibione al primo tempo Pronto? Sì? Mi dica, sorella Cosa? Vengo subito Andiamo, signora Coradina Che l'aereo parte fra venti minuti Vi attenta la testa Eh, porca cazzo Ma Guido, che bello Vuoi che resti? Dove? Con te Partiamo per un'isola ciopicale Ma che ciopicale? L'aereo parte fra venti minuti, signora Coradina Sì, sì, lo sento Tu tu vuoi che orreste Ma non hai il coraggio di te Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo Su Vuoi, vero? No E non voglio neanche che lei mi dia del tuo Ma Su Ma Guido Professore Ma come poco fa mi hai detto che mi amavi Bene, se l'ho detto vuol dire che lo pensavo Ma in quei particolari momenti Signora Coradina Io e lei abbiamo dei doveri che non possiamo e non dobbiamo dimenticare Mi metterei a piangere? Sì Anch'io mi metterei a piangere se non dovessi guidare Pianga, pianga, signora Coradina Il pianto è il migliore immedio nelle turbe psicopisiche Ma allora, anche lei soffre, professore? Sì, ma mi trattengo Oh, come sono felice No, Coradina, stasù Che fai? Si controlli? Coagulo Tampone Tampone Coagulo Contare i tamponi Ma che sta succedendo in questa clinica? Ma come vi siete perdissi? Senza la mia autorizzazione? Per favore Verso le dieci il piccolo ha avuto un collasso Il dottor Fatale gli ha praticato un'iniezione di strofantine Era cianotico Le vene del collo turgide Il polso venoso era presistolico Bisognava intervenire d'urgenza L'abbiamo cercato dappertutto, professore Dappertutto, ma dov'era? Abbiamo chiamato anche il professore Azzarini Non era in casa Il dottor Cremona ha confermato la mia diagnosi Stenosi della tricuspide Mi ha provveduto subito per l'intervento Lei, professore, non c'era Non potevamo attendere oltre Sarebbe stato troppo pericoloso Sta tranquillo, Tersilli L'operazione è riuscita perfettamente Non aveva condubbio in proposito Azzarini non avrebbe potuto far meglio Ne con più sicurezza e mano ferma Bravo Cremona è stato invitato negli Stati Uniti Dalla fondazione Oppenheimer E lì ha lavorato per più di tre anni Con i più grandi cardiochirurghi Come De Becke, Cooley, Freeman Tornato in Italia Ha cercato di mettere a frutto le sue esperienze Ma a Bologna, a Bergamo, a Padova I soliti baroni gli hanno impedito di operare Allora l'ho fatto entrare qui a Villa Celeste Senza che tu ne sapessi niente Perché aveva bisogno di lavorare Non mandarlo via Cremona è disposto a rimanere nell'ombra Finché in Italia ai giovani non sia finalmente consentito Di aprirsi una frase Ma che stai dicendo? E chi lo manda via? Cremona deve restare a Villa Celeste Grazie Vai, vai, vatti a riposare Damatis Ciao Che a Cremona ci penso io Grazie E grazie Hai capito? A Villa Celeste avevamo un secondo azzarini E non lo sapevamo Professore? No? E che è? Sono Pasqualina E che è successo? Mi sono andormentato Che ore sono? Sono le nove Oh là Già girato? Sì Il piccolo Paolino si è già risvegliato E sta molto meglio Ma quel dottor Cremona è straordinario Ha proprio le mani d'oro Sì, va bene Ma non si accediamo adesso Novità? C'è di là il signor Colombo Che vuole parlarle Colombo? Il signor Colombo? Professore Io non so come ringraziarla Lei è tutto il personale Le sue ore Arrivo adesso da Catania Sì? Sono ancora sconvolto Sì Anche mia moglie Quando è arrivata questa notte Mi aveva detto Che non c'era nessun pericolo Invece Grazie Grazie Il medico Quello giovane Mi ha detto Che possiamo stare tranquilli Sì E che l'operazione È riuscita perfettamente Paolino Tornerà a essere Un bambino Sano Come tutti gli altri Certo Per il professore Azzarini Che? Per il professore Azzarini Grazie 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 Anche a nome del professore Azzarini Stracciaprezzi Expert Frigorifero combinato Whirlpool No Frost A soli 399 euro Stracciaprezzi Expert Ciak Si gira I grandi film Tratti dai grandi romanzi Ti aspettano su Iris Lori Tonya Sarebbe stato bello Incontrarci prima Ciclo caffè letterario Ogni giovedì In prima e seconda serata Con Iris Per vincere la corona E una notte d'amore con me Ditemi Cosa desiderate di più? La pace nel mondo Nooo Beh io Ho team tutto a secondi Cos'altro potrei voler di più? Con tutto a secondi Hai 800 minuti al mese Per chiamare tutti A 3 euro a settimana Per tutto il 2013 Non sai che devo andare? Ho lasciato la gondola in doppia fila Aspetta mi tigrotto mio La donna è mobile Vengo con ti Scopri come voglio Il prestito flessibile Della taglia giusta per te Decidi tu se aumentare O ridurre la rata Anche ogni mese E senza costi Puoi avere 14.000 euro Con una rata mensile Da 222 euro Che puoi cambiare In base alle tue necessità Chiamaci all'848-8040-40 O vai su findomestic.it Mamma Qualche volta ho un fastidioso priorito Intimo Succede anche a me Io uso Vagisilcrema Perché calma rapidamente Prurito e irritazione È vero Mi è passato Vagisilcrema Un intimo sollievo È un medicinale con l'idocaina Leggere attentamente il foglio illustrativo D'inverno Come ti prendi cura Del tuo sistema immunitario? Con le tue grandi abitudini? E con i tuoi grandi rimedi? Da oggi Prendi anche un'altra grande abitudine Actimel di Danone Il tuo rinforzo Ogni mattina Con Genial Lloyd è tutto più facile Ci sono sempre Via telefono, email e persino con Twitter E dopo un incidente sei subito chi ti segue Per un preventivo bastano targa E data di nascita Puoi farlo su genialloid.it Via email Con un SMS Oppure su Facebook Così sei subito Quanto risparmi sulla polizza auto Più facile di così Genial Lloyd Una società Allianz Prima di sottoscrivere Leggi il fascicolo informativo Ciao Arriva un momento in cui ci sentiamo la vita in mano Non perché si è arrivati Ma perché si vuole ripartire E non ci sono scelte giuste o sbagliate C'è solo vivere ogni momento Perché ogni giorno Può essere un nuovo inizio Oggi è il giorno in cui condividere Oggi è il giorno in cui rischiare Emozionarsi Sperimentare Oggi è il giorno in cui scoprire Che per vivere è meglio Basta poco A marzo il piacere di leggere è scontato Tutti gli Oscar Mondadori Al 25% in meno La vita ha deciso per te E hai scelto di riassumerti da solo Nuova vita Nuova connessione A 25 euro al mese Questa è fibra Matteo Vuoi combattere anche gli aloni gialli? Oltre alle solite macchie da deodorante? Con Nivea Deo Invisible for Black and White Il bianco resta bianco Il nero resta nero E sei protetta per 48 ore Nivea Deo Invisible for Black and White Anche per l'uomo Da Nivea Per il ciclo caffè letterario È troppo tardi per qualsiasi altra cosa Voi siete molto innamorato di lei Quanto può esserlo un uomo? Un film di Martin Scorsese Tu mi hai fatto intravedere i primi lampi di vita vera Daniel Day-Lewis Michelle Pfeiffer Winona Ryder L'età dell'innocenza Giovedì alle 21 Con Iris Permesso? Buongiorno signora Colombo Il polso è normale Qui all'ascolto non si sentono né fremiti né fibrillazioni Più tardi gli faccio un altro elettrocardiogramma Secondo me il decorso è estremamente favorevole Se vuole sentire anche lei professore No, basta guardare l'aspetto di Paolino Per capire che le sue parole sono vere Vorrei sottoporle la terapia che io ho previsto Dopo, 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 lasciamo che il nostro Paolino riposi tranquillo Vedete? Quando crede che verrà il professore Azzarini Io vorrei tanto ringraziarlo Se non c'era lui Sì, ci sarà, ci sarà modo di ringraziarlo Comunque anche senza il professore Azzarini C'è qui il nostro dottor Cremona Del quale dovete avere la massima fiducia Venga, venga Cremona Lasciamo il nostro Paolino solo con il papà e la mamma A più tardi? Senta professore No, ho capito a che cosa sta pensando Ma si sbaglia Non badi alle parole La vera ragione è che lei ha talento E io me ne sono accorto Ma ha bisogno di farsi conoscere Di mettersi in evidenza E in me non ha soltanto il primario di una clinica Ma un amico, si ricorda Sì, va bene professore Io la ringrazio Ma Azzarini cosa c'entra in tutto questo? Chi c'entra Azzarini in tutto questo? Ma che fa Cremona? Pensa al presente? E al futuro che deve guardare Creda me Azzarini è al tramonto E chi prenderà il suo posto? Io lo so E anche lei lo sa Buongiorno caro Buongiorno professore Buongiorno azzarini Azzarini è già arrivato? Sì, da un pezzo Ha quasi finito l'intervento Già L'assegno è andato bene? Sì, ma hai chiesto di lei Ah, che buono Tra Coraggio comendatore Molto bene Su, su Apre la bocca Tiri fuori la lingua da bravo Molto bene Perfetto Signori Grazie a tutti Ah, professore Permetta che lo esprima Tutta la mia ammirazione Cerca di esprimela con i fatti Questa tua ammirazione Da un po' di tempo Mi fai venire per un solo intervento alla volta Prova di raggrupparmeli Questi interventi Il tempo è denaro, caro Eh, non è facile trovare dei paganti Ormai non c'è italiano che non abbia la mutua Purtroppo Ma la tempo raccorronché Ma chi è quello che opera? Ah, niente, è un assistente Prano Tutte le volte che vengo nella tua clinica Trovo quel giovanotto che sta operando Come si chiama? Sì, è Cremona De Amatis Cerca di aiutarlo Quando sono degli interventi facili Fa sempre operare lui Anzitutto non bisogna mai lasciare operare gli assistenti Quelli imparano anche troppo presto Poi qui non si tratta di un intervento facile per niente Anzi È una stelosi istmica della orta Caspita L'intervento di Crawford Ma quello avrei voluto farlo io È un mutuato dell'Inam, professore Però Ha la mano buona il giovanotto Certo che c'è la buona la mano, vecchio, trombone Ti sarebbe piaciuto farlo tu l'intervento di Crawford Ma è finita la cuccagna Vero, Cremona? Se ne vanno già? Non ho preparato la ricevuta Non fa niente, non fa niente Gliela spedirò a Valmontone Non si preoccupi, restiamo a Roma Spero di trovare un po' di lavoro Glielo auguro Ah, una piccola offerta Pure? Vieni Certo, sì, le vogliono approfittare Andiamo a piedi, ci fa bene Mamma mia, che gente Contadini E così rimuove tra noi, signora Parise Eh sì, quel dolorino sul Pasqualino Invece di diminuire, è aumentato Ma io non so se abbiamo posto Eh, ma quello il dottore ha detto Venga, venga quando vuole Per lei c'è sempre posto Allora vediamo Ecco, vediamo Caffè Già girato? Già girato Novità? Tutti presenti Sigare? Beh Che? Che volete? Siamo alla commissione interna Interna di che? La commissione interna di Villa Celeste Villa Celeste è una commissione interna? Senza il mio permesso? Le commissioni si formano moto proprio Per diritto spontaneo? Non c'è bisogno di permesso E che volete per diritto spontaneo? La stipulazione del nuovo contratto di lavoro Ah Ma fra noi non c'è mai stato un contratto di lavoro Appunto per questo ha detto nuovo Cari colleghi, cari amici Mi viene il sospetto che voi non abbiate capito lo spirito che anima Villa Celeste I nostri rapporti sono sempre stati improntati a una reciproca comprensione Io a voi vi ho sempre considerato come facenti parte di una grande famiglia Oh no Mi sono sbagliato? Non volete essere miei familiari? Bene Leggiamo allora questo nuovo contratto di lavoro Il personale della clinica richiede formalmente al direttore di Villa Celeste I seguenti miglioramenti economici e normativi Aumento del 20% al personale di ruolo e del 15% a quella a ventizio Regolamentazione dei turni di lavoro Indennità per gli straordinari notturni e festivi Settimana corta Abolizione della percentuale sulle mance al personale subalterno Controllo amministrativo di Villa Celeste Ma che volete controllare? Scusate Io vi faccio vedere i bilanci I bilanci non ci interessano Lo sappiamo tutti come si fanno i bilanci Che vuol dire? Che sono falsi? Noi diciamo soltanto che le nostre richieste sono basate su un attento e ponderato esame Di un anno di attività della sua clinica Mia? Della nostra? Buona Bene E allora sapete che vi dico a tutti voi? Per tutti non parlo del professor De Amatis perché non credo che lui condivida Sbagli Il professor De Amatis è solidale con noi come tutti E allora ci mette anche lui Anzi lui per primo De Amatis è un vecchio polmone che dovrebbe avere il pudore di ritirarsi E in quanto a voi tutti Nessuna clinica vi avrebbe fatto le condizioni che vi ho fatto io E adesso mi fate pentire di essere stato troppo generoso con voi Mamma me l'aveva detto Non li prendere con te quelli Loro non ti saranno mai amici Perché sono invidiosi Ecco che mi ha detto mamma Noi non le saremo mai amici perché lei guadagna troppo sfruttando il nostro lavoro Ti azzitta Si ricordi che lei sta qui perché sfrutta l'amicizia di mio socia? Io sto qui perché ho una laurea e ho diritto più di lei Lei non sa distinguere un'ernia da un'appendicite Io da lei non mi farei nemmeno soffiare il naso Professore Si sa com'è diventato professore Con le pubblicazioni che hanno scritto Truffo, Guberti e Lanatoli E con la complicità di quel polmone di anzarini Che lo sanno tutti Se la intende con sua moglie Vieni fuori Siamo desolati Ma allo stesso tempo ti preghiamo di tener conto delle nostre rivendicazioni Che le teniamo giuste e irrevocabili Andiamo ragazzi Andiamo È commosso Momento Dato che le vostre richieste sono irrevocabili Vi darò la mia risposta altrettanto irrevocabile Ve ne potete andare tutti col coco Anche subito Di medici meglio di voi Intelligenti, giovani, bravi, preparati Che fanno la fame, l'Italia è piena Via Via Via, via, via Andatevene E allora i medici che cosa ti hanno risposto? E chi dovevano rispondere? Se ne sono andati con la coda fra le gambe Volevano il contratto di lavoro Le tariffe sindacali Controllare i bilanci Però la colpa è anche tua Tu non dovevi invitarli qui quella sera Le ho visti come guardavano i quadri I mobili, i tappeti Loro è quelle culone delle loro moglie A proposito di culone Metti sulla clinica la dottoressa Olivieri Non sai che cosa è uscito dalla bocca di quella tua protetta Eh no, non parlare così Si è permesso di insinuare che Azzarini ha un rapporto con tua figlia Pensa un po' Questo non lo crederò mai Quello che ha detto l'Auliniere O che tua figlia ha veramente un rapporto con Azzarini Cosa ha detto la signorina Auliniere? Anna Maria a quest'ora Sapete che suo padre era con la... Ho fatto una domanda Ma niente per te colezzi A proposito di cose vere invece Sono stata da Azzarini E gli ho chiesto alcuni consigli La cosa non ti interessa? No? Già A te non interessa quello che può avere tua moglie Tu sei troppo occupato a distrarre le madri dei tuoi piccoli pazienti Ho ancora con la siciliana Te l'ho spiegato mille volte Aveva perso l'aereo Una mamma in pena per il suo bambino Io la lasciavo sola Ma che c'entra Azzarini in tutto questo? A un certo punto da Azzarini è arrivato il dottor Cremona Col giovane chirurgo di cui tanto parli da qualche tempo E che è venuto a fare Cremona? Ah, vedo che la cosa comincia a interessarti Sì L'aveva chiamato Azzarini Per informazioni su alcuni interventi Che aveva fatto Cremona a Villa Celeste nelle ultime settimane E che dito Azzarini? Ah, non lo sai? No Allora te lo dico io Tu hai fatto operare da Cremona dei pazienti Facendo loro credere che l'intervento era stato fatto da Azzarini Si tratta di povera gente Che non ha nessuna possibilità di pagare le cifre che gli vuol far pagare il tuo professore Azzarini non è il mio professore No E forse si trattava di povera gente Ma tu non ti sei fatto scrupola a chiedere loro le stesse tariffe di Azzarini L'ha detto il dottor Cremona questo? No, il dottor Cremona non sapeva niente e non sa niente Gustavo ha avuto la sensibilità di non dirlo Gustavo, lo chiama Gustavo adesso Vabbè Sì, e se tu sapessi quello che ha detto Gustavo di te? Sentiamo, che ha detto Gustavo di me? Che sei un povero ometto, un miserabile, un accattone Invece lui, gentil'uomo che si blocca in sala operatoria e non si muove finché non arriva dal segno Quello è impazzito perché io ho scoperto un giovane che sotto la mia guida diventerà famoso Non credo che farà molta strada sotto la tua guida Azzarini gli ha offerto di entrare in clinica universitaria come suo primo assistente Ah, sarei io lo metto, l'accattone, il miserabile, vero? Papà lo vuole con lui perché ha paura, ecco perché Però Guido, tu devi riconoscere che ti sei comportato molto poco correttamente con la serena E zitto papà, che nella vita non hai fatto che imbrogli tu? Ma che stai dicendo? Che sei imbrogliato a mezza Napoli con le sue case popolari Che quando piove l'acqua se le porta via con tutta la gente che sta dentro E Anna Maria, tu permetti che tuo padre venga insultato qui in casa tua da quest'uomo Questa non è la mia casa No, ti sbagli, questa è casa tua, intestata a te E anche la clinica è nostra, abbiamo il 66% delle azioni Ecco, ha precisato papà Ebbene, non dimenticarlo Già, che è stupida, me ne ero dimenticata Talis pater, talis figlia È io che ho rifiutato quattro soldi d'aumento a 60 onesti lavoratori Per chi? Per ingrassare un vecchio camorista Pronto? Ah, è lei sorveatrice Dica ai ragazzi di stare tranquilli Professore, se ne sono andati tutti Medici, infermieri, adesso anche pazienti Lo prego, venga subito Se ne sono andati tutti? Tutti? Sì Con la coda tra le gambe Dai, sul papà Grazie a tutti Grazie a tutti Professore, serve un medico La signora Parise sta molto male E dove lo trovo un medico io? Ma Ah, c'è Mamma mia E allora? Ma te lo io bene Signora Parise, come andiamo? Che si sente? Sento male, dottor Mi sento male Aiutatemi Febbre Febbre alta ma intermittente Con brividi e sudori Nausea e vomito Baralgina Non è niente signora Parise È una crisi passeggera Adesso su Sicilia le farà un'inizione Le calmerà il dolore Ma lei non si lascia andare Cerchi di reagire Dottor, non mi mandate via Perché dovrei mandarla via Signora Parise No Perché so che quando non c'è più speranza Voi Che sciocchezza dice È una crisi passeggera Fra poco si sentirà meglio Non mi lasciate, dottor Non mi lasciate No, signora Parise Sono qui solo per lei Oh, mia madre Telefoni a Diamatis Ha detto di no Hanno detto tutti di no Per solidarietà Solidarietà, eh Mi fanno ridere la solidarietà Professore, per favore Telefoni alla dottoressa Natoli Le dica che accetta le loro richieste No, mai Ma da solo lei Che fa? Lei osa ancora telefonarmi Non se lo permette mai più Lei non solo ha abusato del mio nome Quello che è peggio Lei ha tradito la mia amicizia Lei è un ladro Lei è un autentico verme della terra E come tale Io la sputtanerò per tutta Roma Nessuno Neanche più un veterinario Vorrà operare nella sua clinica Buffone Ma potrei pure denunciarlo A rifiuto l'assistenza La perugina non è servita I dolori sono ripresi Deve fare qualcosa Non può lasciarla morire così Sì Pronto? Sì, ma il professore non c'è Anna Maria, sono io Ma come, non capisco Ma si è detto di no a te Perché a me dovrebbe dire di sì A me non può dire di no Ah, è così che la pensi Ma allora tu credi che fra me e Azzarini E che cosa allora? Sai che ti dico? Sei un verme Un miserabile Io faccio chiamare un'ambulanza Bisogna portarla in ospedale No Faccia preparare invece la sala operatoria Ma professore Faccia come le ho detto È un ordine Colica renale Diagnosi difficile I sintomi sono simili a quelli della pellicida Della colicestida acuta Della pelle di peritonite Della pancreatite Occlusione intestinale Ernia strozzata Torsione di ciste ovarica Torsione di ciste ovarica Della pancreatite Grazie a tutti. 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 Ecco. Grazie, dottoressa Fabiana. Male pare. Grazie a lei. Grazie a tutti. Anna Maria. Tu eri qui? Amore mio. Perdonami per quel che ho detto. Ma avevo perso la testa, sai? Se sapessi che giornata, se sapessi che giornata, grazie amore. Mi hai salvato, mi hai salvato, mi hai salvato me e quella poveretta. Ma lo sai che stavo per operare la testa, ma lo sai che stavo per operarla io? un taxi? Un taxi? Ma che te ne vuoi andare? Ma che te ne vuoi andare? Vengo con te. No, i direttori devono sempre restare quando ci sono ospiti illustri. Amore mio. Ciao, amore. Ti aspetto a casa. Ciao, Anna Maria. Grazie, amore. Professore. Professore, è un miracolo, professore. È un miracolo, non ha più bisogno di essere operata. Era un calcolo e nell'ultimo spasimo l'ha espulso, l'ha espulso. Ma che dici? Bene. L'assegno, oh. 2 milioni e 800 mila. Sono andati via. Dov'è il professore? Quando ero a Ginevra, primo assistente del... Professore? Il grande Roger. Professore, che c'era con me? Ci successe un caso analogo. C'era un paziente... Ah, signorina Fabiani, non ha più operato. Mi vi dà l'assegno? Mi dispiace, professore, vestito e spogliato come se avesse operato. Sì. Questa non la sapevo. E che è il professore? Una comparsa vicino in città. Vestito e spogliato. Eh, la colpa è tua, mamma. Anzi, è mia e tua. Avanti, 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 sempre avanti. Devi essere il primo, il primo di tutti. Eccolo, mamma. Guardali, il primo. Primo, unico e solo. Mi hanno lasciato tutti, mamma. Sai che ti dico, mamma? Io voglio tornare a fare il medico. Magari il medico condotto, ma il medico sul serio. Vila Celeste se la tengo a mio suocero. La dia pure alla dottoressa Olivieri. La volevo alla clinica di chirurgia plastica per ingiovanire le vecchie. Eccola, mamma. Gliela lascia. È pronta. Ma è possibile, guido mio, che debba essere sempre io a insegnarti quello che devi fare? Che vuoi dire, mamma? Come che voglio di guardami? Eh sì, ti guardo. Mamma, sei tornata? Sì. Non ti avvicinare, se no mi scucci tutto. No, no, oddio. Che hai fatto? Eh, ho fatto quello che vorrebbe fare l'Aulieri. Ringiovanire le vecchie. Non ti accorgi di nulla? Eh sì, ma colgo, sei vestita d'andiana. Ma come non vedi che viso fresco che ho? Non vedi che sembra un arrogozzino? Perché parli così col culo da gallina? Non guardare il particolare, sapessi come mi sento giovane. Oggi, guido, tutti vogliono essere giovani. Tu hai perso tanti anni a curare i malati, ma sono i sani che bisogna curare. Levare le rughe, rifare un naso, un seno. Tu devi far diventare Villa Celeste come la clinica del professor Stroganoff. E chi è Stroganoff? È un mago, guido. Taglia, cuce, vuota, riempe, accorcia, allunga. Sai che dice Stroganoff? La vecchiaia e la bruttezza sono delle malattie da cui si può e si deve guarire. Ma pensa quanti vecchi e quanti brutti ci sono in Italia. Una miniera d'oro! Eccole! Buongiorno, 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 buongiorno. Volete venire, miei cari? Sì, che entri, lo ricevo in piedi. Allora, mi direbbe, dare intanto un'attiraccia. Non è che il manico del nostro cesso. Il manico del nostro cesso. Professore. Che buona voi. Permesso, professore? Mi lasci passare, ho un appuntamento. Avanti, avanti, chi è? Di che si tratta? Come? Ma non vede che naso? Lo vedo, niente di grave. Naso a peperone. Uno degli interventi più facili, più sicuri e meno costosi. Basta pelare il peperone e voilà! Il tutto per un milione. Permette, signora? Levate le orecchie che si legano in testa e il resto è tutto da ripare. Il suo identikit. Lei oggi è così. Oh, ma professore! Zitta! Lei oggi è così. Intervento totale. Alla strogolope sulla regione mammaria epigastrica ombelicale, glutea e femorale laterale, otterremo questo risultato. Dorothy, tutto compreso 5 milioni e due. Mi sento già più giovane, guardi. Buona, si rompe. Lei oggi è così. Avalanca! 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 Jungezelle Jungezelle 시, Jungezelle Valde la gamba! Ho il tuo fascino Pagotti in azione Sì, 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 Sì! Sì, Sì!